151esima puntata dei Rompi Palle Show Allora ragazzi adesso vi racconto questa grandissima avventura che ho vissuto sabato Ero fermo al semaforo dell'Ocean di Nerviano Semaforo con le frecce Quindi corsia dedicata a quelli che devono andare dritti E corsia dedicata a quelli che devono girare a sinistra Quel manicotto davanti a me Si è messo sulla corsia dedicata a quelli che devono andare dritti Ma in realtà doveva andare a sinistra E voleva fare il fumo per passare davanti agli altri Eh furbole Scatta il verde della mia corsia Lui cosa fa? Va avanti Si ferma in mezzo alle balle con la freccia sinistra Mi lascia giusto lo spezzo per passare a me quello dietro A quel punto lì ho detto Eh sì hai fatto il furbo Adesso te la faccio pagare io Sorbole se te la faccio pagare O no ho fatto così C'è campo l'ho 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 l ti affermate carabinieri a te me la mangia già la scena si ferma e le dice il carabinieri guardi che lei è in contraddizione sa e lui proprio a stile fantose no no sia umano pretoriano il carabinieri guarda e fa ma lei lo sa come guida il carabinieri fa male per dio male e poi dopo guarderà tutti i documenti carabinieri e le dice ma qui abbiamo la visione scaduta poi dopo guarda anche la sicurazione è scaduta e poi dopo guarderà le gomme di sicuro anche le gomme sono lisce questa macchina non può circolare signore mio oh come umano lei e adesso come faccio a fare i 42 chilometri per andare e quello le fa 42 chilometri e 195 metri rangers posti ti sto bene così parla a fare fumo che se ti mettevi della corsia giusta io lo chiamavo con il messo per poter non faccio apparire la canzone carabinieri te capi fu basta comunque per vostra informazione ho ancora il 63 per cento di carica della batteria e secondo me nel derby il peggiore in campo è stato l'accent anche se non ha giocato però lui è il peggiore in campo a prescindere va bene a tutti ciao a tutti alla prossima puntata le ole ole il rompibale show la e